Da venerdì 2 a domenica 4 luglio a Badia San Salvatore e Lamiata ospitano il campionato italiano di tiro con l'arco di campagna organizzato dalla Fitarco e in cui si utilizzano come bersagli sagome di animali tridimensionali. L'evento sportivo è stato presentato in regione con il presidente della Toscana Eugenio Gianni. Si tratta di un'iniziativa da doppio significato. Oltre a quello sportivo e sociale, questo evento è anche un messaggio di vita e di speranza per la ripresa delle attività e della vita dopo il lockdown. Il campionato italiano di tiro con l'arco di campagna si svolge in Toscana, ad Badia San Salvatore, dove noi possiamo avere una fonte di richiamo che è dato quindi dallo sport, dai migliori arcieri italiani, ma è dato anche da quello che è la natura, la cultura, la storia di questo che è il comune più alto della Toscana. Siamo ad Abbadia a 828 metri sul livello del mare e evoca quello che è stato il grande significato del Monte Amiata nella storia e nell'identità della Toscana. A questi campionati nazionali si sono iscritti oltre 500 atleti provenienti da tutta Italia. L'evento era stato programmato lo scorso anno a luglio, ma poi rinviato a causa della pandemia di Covid-19. I percorsi individuati per lo svolgimento dei campionati italiani si sviluppano nei boschi di Abbadia San Salvatore, addentrandosi anche fra i ruderi della grande miniera di Mercurio del Monte Amiata nel Parco Museale Minerario.